buongiorno ragazzi buongiorno a tutti belli e brutti buongiorno a tutti quanti benvenuti sul canale di michelone il grande altro che alessandro il grande michelone il grande cazzo di cabena secondo video allacciato all'ultimo che ho fatto parlo ancora una volta di quel personaggio lì che non che non voglio neanche nominare e poi no e poi chiudo il discorso e poi chiude il discorso poi non parlerò più di quello lì perché neanche non merita non merita di consumare parole per quel poveretto lì quello che ha un altro canale che ha detto che lui adesso continuerà a fare le porcate che ha fatto nel primo canale che gli hanno chiuso e continuerà a fare lo stronzo nell'altro allora prima cosa io da tempi in memory tempi in memory ho sempre combattuto contro parlo del lavoro è sempre parte combattuto contro i leccaculi i leccaculi perché secondo me nel mondo le peggiori persone sono i leccaculi e i taccagni però qui non parliamo di taccagneria qui parliamo di leccaculi perché vi dico questo perché adesso cominciano tutti i leccali il culo allora prima si smerdano si sputanano si scrivono sotto i messaggini si mandano a fare in culo la madre poi quando li chiudono il canale li vanno a leccare il culo o poverino gli hanno chiuso il canale aiutiamolo oddio oddio questo lo fanno lo fanno lo fanno sapete perché lo fanno per far vedere che sono buoni per le visualizzazioni per gli iscritti così la gente ci casca diciamo che bravo ragazzo si iscrivono al canale questo fanno se vi ricordate tempo indietro hanno chiuso un 5 6 canali quello di diego ligorio quello di nati per vincere quello di adesso non mi ricordo c'erano 4 5 però quello su quello che volevo parlare era quello di nati per vincere che secondo me ha fatto una cosa bellissima perché anche nati per vincere rompono i coglioni di continuo testa di cazzo tutte quelle robe quando li ha chiuso il canale tutti quelli che lo sputanavano andavano a fare la stessa cosa che fanno adesso col vecchio o poverino o solidarietà nati per vincere ecco nati per vincere cosa ha fatto gli ha mandati fare in culo tutti basta leccarmi il culo ha detto basta leccarmi il culo prima mi rompete le palle poi venite qui leccarmi il culo per farvi vedere belli ha ragione ed è questo che stanno facendo quegli altri quel dottor juve lì se la juve avesse un dottore come quello mamma mia possiamo perdere poi ognuno si dà il nick che voglia ogni tanto vedo dei nick che fanno no cagare di più dottor juve la benzinaio lì il coso lì adesso ha litigato anche il condonato inglese buon quelli lì sono cazzi suoi non me ne frega niente basta leccare il culo per farvi vedere belli basta leccare il culo per farvi vedere belli prima vi sputanate vi smerdate e poi questi qui sapete come si chiamano i volta gabbana i volta gabbana ricordatevi ragazzi lecchini e taccagneria e taccagni sono le peggiori persone al mondo questo volevo dire come secondo e ultimo video poi no poi girava la voce che siccome io ho fatto il video ieri sera e gli ho detto che gli sta bene che gli ha chiuso ma non sono contento perché non me ne frega un cazzo sinceramente un qualcuno mi ha detto che gli hanno chiuso per via di copyright che lui ha caricato più di 35 video con robe sapete quelle robe lì di media set che non si possono caricare non so come cos'è sta roba qua però lui ha detto però prima c'era gente che diceva che la che gli hanno chiuso il canale perché gliel'hanno segnalato perché gliel'hanno segnalato e se qualcuno ti segnala il canale vuol dire che hai rotto il cazzo chi hai rotto il cazzo tutto qua ragazzi questo volevo dirvi come 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 primo video di giornata iscrivetevi al canale di uno che non è né lecchino e né taccagno e con questo vi saluto a tutti ciao a tutti bene e brutti